Sono state ultimate le sgambature della terza corsa al cirigliano di Aversa e il premio Gregoriana riservato a soggetti di tre anni sulla distanza del miglio. Non corrono dai Vita Jet, Dai Tarn e Dolly Regal, quest'ultimo non partente, qui restano in dodici, cinque in prima fila, cinque in seconda e due in terza, dallo steccato Donatello, WF, Daniele Jet, Detto Jet, Daphne Dordominatrice Fass, seconda fila per Dukindino, Dixon Spav, Dewdrop, Dama Killer Gar, Dani Mago SM, terza fila per Danza e Dorina Dirisaia. Valvia la rottura di Daphne d'Or, emerge Detto Jet, poi lungo i paletti Donatello, WF e a largo Dominatrice Fass, sbaglia Donatello, si sistema seconda Dominatrice Fass, alle spalle di Detto Jet. 200 iniziali in 15 e mezzo, partito bene dalla seconda fila, Dani Mago SM che è in quarta posizione, Donatello, WF si è ripreso dall'impasse iniziale, adesso gravità ai lati di Dominatrice Fass in seconda posizione. 32 il primo quarto, Frustino avanti per Detto Jet, Donatello, WF cerca di insidiarlo, i 600 in 47, la curva sollecita in 15, Detto Jet, Donatello, WF, dominatrice Fass, quarta posizione per il cavallo del quale non riusciamo, il cavallo che non riusciamo ad individuare. Si tratta esattamente del numero 10, Dama Killer Gar, reitera l'errore Donatello, WF, chilometro in 1,18 scarsi, allunga sulla retta di fronte Detto Jet, trascinandosi Dominatrice Fass, poi muove Dani Mago SM e va in terza posizione, seppur distante dai primi due, 1,33, tre quarti di miglio, Dominatrice Fass trova l'azione giusta e avvicina Detto Jet, poi perde l'azione che stava trovando e finisce con lo sbagliare, per cui in retta d'arrivo Detto Jet solitario alla meta per il doppio nel pomeriggio sia di Vincenzo Gallo alla guida che di Vincenzo Castiglia al training, ma anche della Maiors ai colori, Dani Mago SM al secondo e Dorina Di Risaia al terzo e questo l'arrivo probabile ed ufficioso della terza dal Cirigliano media che dovrebbe aggirarsi intorno all'1,16 per il vincitore Detto Jet, un figlio di Wishingston e Yandaya Jet, doppio anche per i figli di Wishingston dopo il successo in apertura di Elettra Caparra. Grazie a tutti!